E' filmato? E' filmato? E' filmato? E' filmato? Ma gli di qualcosa? Simone di qualcosa? Simone di qualcosa? Guarda, guarda, questo è il podio, questo è il podio E lì c'è Simone, e quella è Simone Qui ci sono due personaggi che hanno cantato Questo è Enricchi E qui altri due E quello è Simone C'ha anche la medaglia Il vino dove? Il vino dove? Il vino dove? Vogliamo vedere il vino? Ah, ecco il vino E questo è il podio Qui c'è la giuria Questo sono io E' un problema, è un problema, è un problema Dobbiamo andare avanti in questo modo Non ci preoccupare, c'è in montagna